A quel tempo avevo 21 anni e credevo di essere indistruttibile e volevo andare in guerra per distruggere Hitler. Così sono entrato nel battaglione dei Rangers. Questa foto rappresenta lo sbarco avvenuto su una piccola spiaggia tra Gela e Licata. C'era una visibilità spettacolare. Ci siamo imbattuti in una fattoria, poi un uomo si è avvicinato e mi ha detto, potrebbe piacerti stare qui e potrebbe anche piacerti Angelina. Lei era sua figlia e aveva 15 o 16 anni. Ci ho riflettuto ancora un po' e poi ho preso la mia decisione. Non riesco a ricordare quanto tempo sono rimasto in Sicilia. Forse due o tre settimane e poi sono ritornato a casa. La mia avventura hollywoodiana ha avuto inizio prima di venire in Sicilia. Quando mi sono arruolato avevo già lavorato come fotografo di Hollywood. Una volta terminata la seconda guerra mondiale ho continuato la mia carriera di fotografo. Phil Stern ritorna in Sicilia dopo 70 anni. Ha 93 anni, ma la sua età non ha fermato il suo sogno. Per me essere ritornato in Sicilia è stato eccitante, essilarante ed entusiasmante. Si potrebbe dire che in questo viaggio ho rivisitato la mia gioventù e devo ammettere che è stato molto emozionante e spero che il mio cuore non abbia palpitato troppo. Questa è la storia di un irrequieto soldato americano che il 10 luglio del 1943 sbarcò in Sicilia per stare accanto alla morte ed essere così vicino all'eternità.